O per necessità non derogabili, evitate in ogni modo assembramenti, potete fare brevi passeggiate ma da soli, ciascuno per conto proprio, lontano dagli altri. Lavatevi bene le mani quando rientrate e in ogni caso lavatevele spesso nel corso della giornata ed evitate di toccarti il viso e gli occhi. Ricordatevi a rieggiare le stanze della vostra casa ogni due o tre ore, anche questa misura è molto importante. Gli ultimi 65 anni devono in ogni caso rimanere in casa il più possibile, il comune è a disposizione per portare loro la spesa e i medicinali a domicilio. Basta chiamare le assistenti sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 a questo numero 049 89 28 770, ripeto, 049 89 28 770. In questo momento difficile e importante l'impegno di tutti ne usciremo ancora più forti. Grazie. Grazie.